Buongiorno a tutti i telespettatori di Udine News TV in apertura di questa edizione del nostro TG e parliamo di università perché il nuovo rettore dell'Università di Udine Pinton ha presentato oggi la sua squadra allora andiamo subito dalla nostra truppa esterna andiamo da Luciana Idelfonso che si trova a Palazzo Antonini Maseri e proprio per la presentazione della nuova squadra del nuovo team che affiancherà il nuovo rettore dell'Università di Udine a voi Luciana buongiorno Buongiorno anche a te Angela ai nostri telespettatori detto bene ci troviamo in compagnia del rettore dell'Università di Udine perché quest'oggi è il giorno della presentazione della nuova squadra ma anche di quelli che sono un po' gli obiettivi il rettore del suo mandato beh certo allora intanto volevo fare una presentazione alla squadra che andasse un po' oltre il comunicato stampa che del resto è stato ripreso dai giornali dai media in maniera molto puntuale e con l'occasione anche definire un pochettino quali sono i target e gli obiettivi di queste deleghe e quindi dell'attività che andremo a svolgere sicuramente fra le cose più importanti che dovremmo fare nei primi mesi del mio mandato comunque entro sei mesi e al massimo entro giugno definire un nuovo piano strategico dell'Università di Udine ci può anticipare anche qualcos'altro anche perché vedo che ci sono delle nuove deleghe anche abbastanza importanti e innovative direi beh diciamo una in particolare a cui tengo molto è la delega al trasferimento della conoscenza in realtà quella che viene normalmente definita la terza missione dell'Ateneo e che ho promosso la delega d'area e perché in questa delega dovrebbe confluire tutte le dovrebbero confluire tutte le attività che già si fanno di interazione con il territorio ma anche di visibilità della tutta l'attività che l'Università svolge e il contributo che può dare al a un territorio anche a livello nazionale naturalmente sì se posso aggiungere un'altra delega innovativa o perlomeno nuova chiamiamola è alla progettazione interdisciplinare io credo che le competenze che abbiamo sviluppato dentro la nostra Università siano tali da poterle mettere a complemento metterle assieme per sviluppare nuovi ambiti di didattica di formazione quindi e di ricerca ne abbiamo avuto un esempio ieri quando è stato presentato per esempio il lavoro del cosiddetto gruppo sull'active aging. Rettore da qui a un anno ci ritroveremo per il bilancio del suo primo anno di mandato che obiettivi ci diamo? Obiettivi di aver definito il piano strategico e aver cominciato a caratterizzare per esempio l'attività didattica peculiare della nostra attività io questi sono due obiettivi su cui mi sento di potervi dire qualcosa di concreto il prossimo anno. E allora ringraziamo il Rettore vi restituisco la linea a voi. Grazie a Luciana Idelfonso per questo contributo. In questi giorni anzi la notizia del giorno è sicuramente il taglio dei parlamentari. Ieri alla Camera l'ultimo via libera quello definitivo alla legge di riforma costituzionale che diminuisce di 345 unità i membri del Parlamento italiano. Per il Friuli Venezia Giulia ci saranno onorevoli e senatori in meno ovviamente rispetto ad adesso si passerà da 13 a 8 eletti in regione alla Camera da 7 a 4 invece gli eletti in Senato ovviamente dalla prossima legislatura. Monica Nardini è andata a sentire un po' le opinioni degli udinesi. Vediamo allora cosa pensano di questa riduzione dei parlamentari. Un taglio dei costi o della democrazia? Vediamo. Io sono favorevole a taglio e dovrebbero togliere anche tanti anti bug, tanti anti inutili che ci sono in Italia che non servono a niente. Sì mandarle a casa. Tutti? Tutti? Come si fa se tutti vanno a casa? Tutti no, però quelli che scaldano le carreghe in dialetto o le sedie o le poltrone. Dieci in tutto bastano. Lei non teme un calo di rappresentatività per il Friuli Venezia Giulia? Eh beh quello è un po' un guaio perché ma insomma... è favorevole al taglio di deputati e senatori come numero? Sì, manderei a casa quasi tutti. Non è un'idiozia. Perché è un'idiozia? Una diminuzione di rappresentanza notevole non... al di là del fatto che hai la bandiera dei 5 stelle che hanno dovuto portare avanti non vedo utilità grandiosa per l'Italia. C'erano tante altre urgenze. Avrebbero dovuto tagliarne di più perché ce ne sono troppi che non sanno... che giocano diciamo sulle loro poltrone questo potere, gestiscono questo potere che in fin dei conti per il popolo non va bene. Lei non teme un calo di rappresentatività per esempio anche per il Friuli Venezia Giulia visto che caleranno i deputati e i senatori anche da questo territorio? Sì, anche per il Friuli qui naturalmente ci sono meno possibilità di di espansione di così di idee più che altro fatti. Lei è favorevole o meno al taglio dei parlamentari? A chi può essere contrario? Scusi. Siamo ridotti dunque anche i deputati e senatori rappresentativi per il Friuli Venezia Giulia lei teme questo oppure no? Non mi interessa per quello che stanno facendo. Favorire il dialogo tra le procure egiziana e italiana sul caso Regeni è questo l'obiettivo a cui sta lavorando e lavorerà nelle prossime settimane nel ministro degli esteri Luigi Di Maio per superare un impasse non più accettabile. è stato lo stesso titolare della Farnesina a spiegare questa mattina ai microfoni di Radio Anch'io il cambio di passo sul caso di Giulio Regeni il ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel febbraio del 2016 promesso ai genitori dei ragazzi incontrati due giorni fa un passo indispensabile visto che come ricordato dal ministro è dal 28 novembre scorso che le due procure non hanno più contatti lasciatemi lavorare nelle prossime settimane per favorire il dialogo tra le due procure faremo il punto tra non molto assicurato Di Maio il ministro ha quindi voluto evidenziare che la famiglia Regeni non combatte una battaglia personale ma che è tutto il paese che vuole la verità su un suo connazionale che è morto dopo essere stato torturato. Andiamo avanti con la cronaca fiamme dal televisore il pronto intervento dei vigili del fuoco impedisce che l'incendio si propaghi al resto dell'abitazione è successo nella serata di ieri a Meduno il proprietario stava guardando la tv comodamente seduto sul divano quando ha visto delle fiamme uscire dall'apparecchio il fumo che si è sprigionato lo ha costretto a uscire dall'abitazione assieme alla moglie il genero con un estintore a polvere è riuscito ad abbassare le fiamme ma non a estinguerle completamente ha dovuto desistere per l'alta concentrazione dei fumi e uscire dall'abitazione risolutivo l'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Maniago che hanno impedito che le fiamme si propagassero al resto della casa il fuoco infatti stava ormai lambendo un divano ed altre su pellettili non dichiarano redditi per 11 milioni denunciati per dichiarazione infedele due imprenditori russi a portare a termine le indagini la guardia di finanza di Pordenone che ha disposto il sequestro di beni per 7,8 milioni di euro proprietà immobiliari nel capoluogo della destra tagliamento e a Lignano-Santiadoro le fiamme gialle hanno accertato che i due imprenditori residenti a Pordenone non hanno dichiarato redditi per 11,77 milioni l'indagine è scattata quando è stato appurato che i due pur manifestando notevoli disponibilità dichiaravano redditi modesti per di più nel corso delle indagini è stato scoperto che i due imprenditori risultavano iscritti all'anagrafe del comune friulano con i relativi familiari e fruivano di servizi pubblici compresa l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale avevano però mantenuto anche la residenza estera nella Confederazione Russa giovandosi così di una sorta di doppia residenza sia ai fini fiscali sia civilistici con il risultato che i redditi percepiti non venivano dichiarati in nessuno dei due paesi è stata inoltre riscontrata la detenzione di ingenti disponibilità finanziarie in istituti di credito di altri paesi esteri tra cui le British Virgin Islands e Cipro i carabinieri delle Noe di Udine hanno effettuato una serie di ispezioni finalizzate al monitoraggio delle attività impegnate nel ciclo della plastica ad esito delle quali hanno accertato violazioni penali nei confronti di una società sita in Pradamano operante nel settore del recupero della plastica il controllo ha portato alla denuncia del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società proprietaria e gestore di uno degli stabilimenti destinati allo stoccaggio e recupero di materiale plastico ed ingombrante a seguito delle indagini militari del Noe di Udine hanno inoltre sottoposto a sequestro preventivo lo stabilimento citato e il relativo impianto di aspirazione polveri poiché risultati privi delle necessarie autorizzazioni ambientali per la gestione dei rifiuti e le conseguenti emissioni in atmosfera il sequestro ha interessato uno stabilimento di 18.000 metri quadri e 1.400 metri cubi di rifiuti in esso stoccati per un valore complessivo di 2 milioni e mezzo di euro Apriamo adesso la pagina sportiva e colleghiamoci con la Dacia Arena con il nostro Jacopo Romeo pronto in sala stampa per le ultime novità riguardanti l'Udinese Allora Jacopo buongiorno e subito a te la linea Ciao Angela, buongiorno a te buongiorno a chi ci segue da casa partirei subito con l'ultimissima ora con la notizia pubblicata proprio pochi minuti fa sul nostro sito ufficiale udinese.it e che annuncia l'amichevole di sabato alle ore 15 alla Dacia Arena Udinese Venezia una sfida, un test comunque importante contro una compagine di Serie B l'avevamo detto che era nell'area organizzazione di questo test ebbene la scelta è caduta sul Venezia squadra di Serie B allenata da mister Federico Dionisi attualmente al 14esimo posto in cadetteria ed è un modo per garantire comunque un impegno di livello e non interrompere bruscamente la preparazione in queste due settimane di stacco dal campionato considerando che i nostri nazionali sono impegnati in ben nove in giro per il mondo a partire proprio da questa sera perché Rodrigo De Paul e speriamo anche Juan Musso lo saranno da titolari nell'amichevole che l'Argentina giocherà a Dortmund amichevole di extra lusso contro la Germania poi da domani partiranno anche gli impegni degli altri nostri ragazzi che saranno alcuni coinvolti in gare preziose pesanti con punti in palio di qualificazioni ai prossimi europei test dunque sabato alle ore 15 ve la mostreremo come sempre in diretta su Dinesi TV ma la sfida si giocherà a porte aperte qui alla Dacia Arena con i settori Tribuna Laterale Nord Tribuna Centrale Nord e settori ospiti aperti con tariffa unica per il ticket di 5 euro ma tutti gli abbonati mostrando la propria tessera potranno acquistare il ticket a 1 euro le vendite apriranno quest'oggi alle ore 15.30 su tutti i canali online e anche all'Udinese Point presso la Curva Nord con orari 9.13 e 15.19 poi naturalmente i botteghini dalle 9.30 del mattino al calcio d'inizio aperti anche sabato nel giorno gara piccola precisazione per tutti gli abbonati che possono acquistare il biglietto per la gara al costo simbolico di 1 euro questo tipo di opzione non è acquistabile via web online dunque bisognerà andare o presso un punto vendita autorizzato o recarsi qui all'Udinese Point in Curva Nord queste un po' tutte le info della notizia dell'ultima dell'ultima ora cioè dell'amichevole che l'Udinese giocherà contro le Venezia chiudo restituendoti la linea Angela ricordando che quest'oggi ricominciano anche gli allenamenti dei bianconeri dopo due giorni di riposo lo ripetiamo senza nome nazionali ma come sempre vi mostreremo quella che sarà la seduta di mister Igor Tudor che prenderà il via alle ore 16 a te Angela grazie Jacopo noi andiamo avanti con il nostro TG e come sempre in chiusura diamo uno sguardo anche a quello che accade attorno a noi in Italia e nel mondo per quanto riguarda la cronaca in primo piano nelle ultime ore c'è un'operazione della Polizia di Potenza coordinata dalla Procura della Repubblica che ha smantellato un'associazione per delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro in altre parole caporalato l'indagine è condotta dagli agenti della squadra mobile ha permesso di accertare l'esistenza del caporalato anche nella provincia di Potenza e ha visto coinvolte tante persone l'associazione operava in diversi comuni e tutti interessati dalla raccolta di frutta e pomodori da parte di cittadini stranieri e a proposito di caporalato c'è anche una nota del ministro dell'agricoltura Bellanova che ha detto il caporalato è mafia come tale va combattuto per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e salvaguardare migliaia di imprese oneste che subiscono la concorrenza sleale di chi sfrutta queste le parole del ministro Teresa Bellanova e parliamo adesso di premi Nobel l'abbiamo letto questa mattina sui giornali premi Nobel per la fisica allora andiamo a scoprire nel servizio dell'ANSA chi sono i vincitori e quali le importanti scoperte realizzate hanno trasformato l'immagine dell'universo e sollevato il sipario sui migliaia di mondi alieni portandoli dalla sfera dei sogni e della fantascienza alla realtà sono state decisamente rivoluzionarie le due scoperte premiate con il Nobel per la fisica 2019 il canadese James Peebles ha proposto un'immagine dell'universo tanto completa quanto inedita mentre gli svizzeri di Michel Maillot e di Die Kelo entrambi dell'Università di Ginevra hanno scoperto il primo pianeta esterno al nostro sistema solare scoperte che continuano ad avere un impatto dirompente sia su tanti esperimenti che vedono sovrapporsi cosmologia e fisica delle particelle dove infinitamente grande e infinitamente piccolo si incontrano sia sui nuovi telescopi e le missioni spaziali progettate per andare a caccia di mondi alieni un Nobel come questo è un modo per ricordarci che la ricerca sull'universo non è importante solo dal punto di vista scientifico ma può avere anche un impatto sull'emiglioramento dell'economia e dello sviluppo industriale ha rilevato il ministro per l'istruzione università e ricerca Lorenzo Fioramonti e siamo in chiusura andiamo a vedere assieme come sarà il tempo nella giornata di oggi anche domani sentiamo gli esperti dell'Osmer Arpa noi ci rivediamo più tardi alle 12 condizioni di tempo dettate dalla presenza di umidità sta avvicinandosi un fronte anche alla nostra regione in questo momento il fronte è nell'alta Austria in Baviera quindi scenderà lentamente nel corso della giornata verso di noi ma nei bassi strati già c'è un afflusso di aria più umida quindi il cielo già si presenta nuvoloso coperto e rimarrà probabilmente così per gran parte della giornata nel corso del pomeriggio delle probabili piogge sparse a iniziare dalla zona prealpina nella fascia orientale della pianura piogge sparse che in serata e nella notte successiva interesseranno un po' tutta la regione localmente saranno anche un po' più abbondanti temperature in lieve calo ma insomma nel massimo intorno ai 18-20 gradi l'aria non è particolarmente fredda e per quanto riguarda la giornata di domani inizialmente avremo ancora delle piogge nel primore del mattino soprattutto a est prime schiarite invece in Carnia e sulle zone occidentali miglioramento su tutta la regione nel pomeriggio di domani tornerà a esserci un po' di borino un lieve borino un po' di vento da est nord-est sulla costa e quindi avremo un miglioramento bel tempo in vista nelle giornate poi di venerdì e di sabato con molto sole sulla regione quindi dovremo avere tempo abbastanza stabile un po' di borino di borino di borino di borino Grazie a tutti.